Ma come siamo nati? Io so solo che siamo di filo spinato. Metallico. Pungente. Filo spinato di Guantanamo. Una prigione, la più terribile, come i suoi carcerieri, taglienti e pericolosi. Ma perché siamo così? Così. Senza pelle, come se non avessimo niente che ci copre e ci tiena al sicuro. Noi siamo la rappresentazione del dolore. Siamo il dolore umano. Questo materiale, il filo spinato, è dolore. Quel dolore che ti prende il cuore, che non ti lascia fuggire. Siamo anche senza pelle, per esprimere il dolore interiore oltre che esteriore. Ecco cosa siamo. Il dolore. Il dolore. Il dolore.